Ciao, ciao! Ciao! Allora, è bellissimo? Beh, è abbastanza interessante. No, 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 eccezionale direi. Certo che bisogna riconoscere che l'architetto Neil è uno dei più moderni che ci siano. È anche il più caro però. Ma Raimondo, ma l'arte non ha prezzo. Ah, già, già, l'arte non ha prezzo. Ma, soggiorno, mi sembra un po' piccolo, no? Ma no, ma è grandissimo. È l'architetto che ha fatto di tutto per farlo sembrare più piccolo. Ah, ha fatto apposta lui. C'è riuscito, eh? Io credevo che dovesse essere il contrario, comunque. Ma Raimondo, ma cosa fai? Ti ho messo il borsello sul tavolo. Ma questo non è un tavolo, è una scultura. Oh, è una scultura? Certo. Sembrava un tavolo. Ma no, è famosissima anche. Ah, sì. E forse è l'opera più significativa di Oli. Ah, sì. Certo. E che opera è? Si intitola Il tavolo. Ah, si intitola. Beh, ti dirò che come titolo vi sembra giusto perché sembra proprio un tavolo, sembra. Dovinate come titolo perché sembra proprio un tavolo. Ma cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Ma è possibile che tu prenda tutte le sculture per mobili? Perché anche questa è una scultura. Ma certo, è del Bragonsi. Oh, è del Bragonsi. È intitolata la sedia? No, paesaggio toscano. Ah, è paesaggio toscano questo qui. Se vuoi sederti la poltrona è quella. Quale? Quella, quella lì, quella lì. Quella è una poltrona? Ma non è una scultura. Ma non essere ridicolo, ma sei retrogrado, sei retrogrado. Scusa, hai ragione, mi devo aggiornare. Certo, aggiornati. Questa che sembra la scultura è una poltrona. Eh, già. Cos'è, non sei comodo? Eh, sì, sì, ma a me il fatto di questa manona sotto, io dico, è stata studiata apposta fino a rifiuti, completo rilassamento, e tu? Sì, sì, sarà, ma a me, a me sembra che mi tocchi. Va bene. Da questa sensazione, scusa. Io, 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 lo sai che quel quadro è abbastanza bello? È molto bello, è modernissimo, è l'ultima corrente pittorica. Beh, è modernissimo, non direi, anzi, direi piuttosto che segui la corrente tradizionale dell'arte figurativa. Sembra vero. Ma è vero. Come è vero? Ma dico, ma Raimondo, ma in che mondo vivi? Ma su tutte le riviste si parla di quest'arte moderna, dei quadri viventi. Ma tu non leggi, è logico, non sai niente perché non leggi, non leggi. Ma lui è vivente. Ma certo che vivente. Quello è un quadro. Ma non, stai zitto, stai zitto, non direi, quello. No, quello è Richard Crix. Chi è? Richard Crix. Richard Crix. Uno dei pittori moderni. Ah, lui è Richard Crix. Ricci, Ricci, Ricci. Ricci, Ricci. Piacere. Cosa? Questa. E' pittore in quadro? Già, già. Ed è anche firmato, eh. Certo è un pop-pop. Pop-pop? Chi è? No, dico è arte pop. Ah, sì. Se tu sapessi, se tu sapessi quello che ho dovuto fare per averlo. Perché lui si è esposto anche a Londra, alla National Gallery. Ah, è stato esposto? Sì, sì, sì. E già, e lui si è messo lì al muro, eh. Ma è l'artista. Ma sei contento, cicciolino, del bel cadretto che ti ha fatto trovare di te? Senta, stai buono, stai buono, non siamo soli, no. Ma Raimondo è un quadro. Eh, lo so, è un quadro, ma io mi ci devo abituare, no? Io sai che sono un po' antiquato, come gusti, un po' finica. Ma sì, ma sì, cicciolo, ti abituerai, ti abituerai, sono pianino, pianino. Ma dico, ma quello sempre lì deve stare. No, mica ce lo possiamo permettere. Ah, non ce lo possiamo permettere. Lo sai quanto ti costa quello? A me? Diecimila lire all'ora. Diecimila lire all'ora, sì. Aspetta, aspetta. Signor Crist, e senta che signor Crist, io e mio marito andiamo a dormire, lei può pure andare. D'accordo, signora. E senta, a che ora può venire domani? Domani? Sì. Damani io sono esposto breve dalle nove a mezzogiorno. Dunque, sì, sì. Le va bene da l'una alle tre. Benissimo. O sei qui? A damani allora, a damani. A damani. Oh, pardon, non parlò, ma dà, dimenticavo la mia firma. Prego. Eh, voilà. O sei qui? A damani, a damani. A damani. Ma quale damani? Ma damani io da l'una alle tre non ci sono. Ma ci sono io, stai tranquillo. Ma non sono tranquillo proprio per questo, ma cosa siete solo di voi due? Ma cosa sei, geloso di un quadro? Ma sei proprio retroagra, domani non ti faccio. Ma scusa, ma quello... Vieni a vedere, vieni a vedere, stai zitto. Vieni a vedere che bella camerina ti ho preparato. Una camerina da letto meravigliosa. Vieni a vedere, vieni a vedere, vieni a vedere, vieni a vedere. Questa è la porta, vero? Sì, quella è la porta. E il letto dov'è? Il letto è qui in mezzo, è un letto all'ultimo grido, così non c'è bisogno dei comodini. E c'è perché è tutto un comodino intorno al letto. E certo. Ma lì l'ha come idea. Ma cosa fai, il birichino adesso? Ma quale birichino? Io quando mi devo togliere le scrampe sono abituato a sedermi sul letto. Ecco, qui è tutto il contrario. Lo vedi quel cubo? Ecco, vatti a sedere, è fatto apposta. Sì. E' quello che è? Che ne so. Ma come che ne sai? Sarà l'inquilino dell'appartamento accanto, no? Si vede tutto così, ma non c'è la parete. Ma certo che c'è, sciocchino, ma è di cristallo. Ma come è di cristallo? Allora io devo vedere questo bello spettacolo. Ehi! Ma valla mia, spiega la luce, sparcacione! Guarda, guarda, che inutile che gridi, perché tanto non ti sente. Le parete sono antiacustiche. Ma io a questo non la voglio vedere, ma insomma che razza di casa è? E' una casa moderna, tesoro. E' una casa di vetro. Ormai le case di mattoni non si usano più. E' un concetto superato, quello dei muri, antiquato e soprattutto ipocrita. Ipocrita? Sì, signore, certo. Ormai l'umanità non vuole più chiudersi, non vuole più nascondersi, vuole andare verso la fratellanza, vuole stringersi a un abbraccio universale. Ma io, fratelli, non ne voglio, io non voglio abbracciare nessuno. Dico, ma è possibile che in casa mia non posso essere padrone di fare quello che voglio? Di là c'è il quadro vivente che mi guarda, qui c'è questo che fa lo spogliarello. Sai che gli dico? Io da questa casa me ne vado. Retrogrado? Retrogrado, sì, tutto quello che vuoi, antiquato, vecchio, me ne vanto però. Perché a me piacciono quelle case con quei bei muri di mattoni belli duri. Questa casa mi fa schifo, sai che ti dico? Questa casa mi fa schifo, mi fa schifo questa casa, questa casa mi fa schifo perché... Schifo questa casa. Schifo lo sapeggio. Sai che ti dico? Che a me qui, quest'idea dell'abbraccio universale, non mi dispiace mica. Grazie.